La bella stagione è alle porte e con l'arrivo del caldo estivo sopraggiungono anche i primi problemi di surriscaldamento dei nostri pc soprattutto per i notebook più datati che fanno sempre più fatica durante l'elaborazione delle operazioni più impegnative poiché un eccessivo surriscaldamento potrebbe causare malfunzionamenti o nella peggiore delle ipotesi danneggiare rimediabilmente il tuo computer è bene tenere sotto controllo la temperatura del pc e se necessario ricorrere a supporti esterni che aiutano a dissipare il calore come ad esempio le basi di raffreddamento o l'air vacuum che recensiamo oggi Attenzione però, questi strumenti, sebbene siano una valida soluzione, non devono essere usati per evitare la manutenzione periodica del computer tra cui la sostituzione della pasta termoconduttiva e la pulizia dei componenti interni che potrebbero essere ostruiti dalla polvere Klim Cool Plus è un sistema di raffreddamento compatibile con tutti i computer portatili dotati di una presa d'aria posteriore o laterale misura 16,9 x 8,1 x 4,3 cm e pesa 255 grammi Nella confezione, oltre al cavo USB necessario per l'alimentazione, sono presenti 4 adattatori in gomma di varie misure per fissarlo nel modo migliore possibile al notebook Questo cooler prodotto da Klim presenta tutte le caratteristiche dei prodotti rugged a partire dal design fino ad arrivare ai materiali costruttivi per lo più alluminio per massimizzare la dissipazione del calore Già al primo contatto si riesce a percepire che si tratta di un prodotto ben realizzato e robusto lo dimostra anche il fatto che l'azienda offre ben 5 anni di garanzia e l'opzione soddisfatti o rimborsati nel caso in cui il prodotto non dovesse soddisfare le aspettative Il funzionamento del dispositivo è semplice quanto efficace dopo averlo installato sulle prese d'aria del laptop utilizzando l'adattatore in gomma più adatto bisognerà alimentarlo tramite la porta USB usando il cavo in dotazione Per attivarlo è sufficiente premere il pulsante di accensione e ruotare la manopola in senso orario per regolare la velocità della ventola fino a un massimo di 4500 RPM Sul dispositivo sono presenti inoltre un secondo pulsante che ha la funzione puramente estetica di cambiare il colore del logo retroilluminato e un display che riporterà la velocità di rotazione in giri al minuto o la temperatura in gradi indicazioni attivabili tenendo premuto più a lungo il tasto di accensione Il CleanCool Plus non è certo uno strumento portatile sia per le dimensioni sia perché necessita sempre di una base d'appoggio piano come un tavolo o una scrivania Il suo potente sistema di ventilazione va a discapito della silenziosità soprattutto se utilizzato al massimo regime tuttavia dovrebbe riuscire ad abbassare la temperatura del notebook di circa 20,7 gradi centigradi come dichiarato dall'azienda In questo momento è disponibile su Amazon al prezzo di 29,90 euro centesimi Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille!